Si chiamava Denise Saldate e si stava lavando i denti, aveva solo 11 anni di età. Si trovava in bagno con la sorella quindi 15 anni, prima di andare a letto si è lavata i denti, ripeto, e ha avuto gravissimi problemi di respirazione. E pensate che è borta, ripeto, a soli 11 anni di vita. La sorella è uscita dal bagno, disperata, ha avvertito la mamma che Denise proprio non riusciva a respirare. La ragazzina è morta poco dopo per colpa di uno scioffo anafilattico causato da quel dentificio che in qualche maniera aveva al suo interno del latte, prodotto dal quale era molto allergica. Monique Altamirano ha raccontato di avere trovato la figlia, aglurizzante con le labbra blu, a chiamare i soccorsi, ma niente c'è stato da fare, poi a bambina è fatta e era già morta. Monique Altamirano vi ricordo che è la mamma della povera Denise che è morta a soli 11 anni di vita. Grazie a tutti, un caro salutore, Denise, saldate o saldete. Ripose in pace. Amen.